Sulla Nolese Sud nessuna traccia di frenata o altro segno. È il mazzo di rose bianche lasciate oggi sul campo dove si è consumata la tragedia a testimoniare dove Riccardo Gallo, 19 anni, compiuto a luglio, ha perso la vita domenica scorsa all'alba a bordo dell'auto guidata dalla neopatentata fidanzata con altri tre amici. Tutti di Veternigo di Santa Maria di Sala stavano rientrando dalla serata in discoteca da Noale quando, per causa del vaglio degli inquirenti, l'auto è uscita fuoristrada carambolando su se stessa e finendo proprio lungo il campo a bordo carreggiata. Un impatto tremendo con Riccardo, sembra fosse senza cintura, sbalzato letteralmente fuori dall'abitacolo. Il ragazzo era molto conosciuto tra la comunità salese anche per l'attività di barbiere del padre. Sono stata a portare le condoglianze dell'amministrazione alla famiglia e anche miei personali essendo una famiglia che conosco da tantissimi anni. Tra i primi ad allarmarsi perché non vedeva rientrare il nipote, la bisnonna di 102 anni, con il padre del ragazzo Mirko, subito sul logo dell'incidente, ha tentato più volte di rianimare il figlio, ma le ferite riportate da Riccardo erano troppo gravi e l'urto con il terreno non gli ha lasciato scampo. Il 19enne non respirava più da diversi minuti. Il dolore quando si entra in una famiglia che ha perso da poche ore un figlio così giovane, entri nel dolore della famiglia e ne resti sconvolta e oggi mi sento veramente così. Ora l'auto è sotto sequestro, sottoposta all'alcol test e alla fidanzata, feriti ma non in modo grave due dei tre ragazzi passeggeri con il terzo grave ma non in pericolo di vita.